ciao a tutti sono Biagio l'esploratore a caccia di impronte nel bosco vediamo chi ci è venuto a trovare in questo video c'è una cornecchia grigia in lotta con un altro uccellino forse una ghiandaglia che difende il suo territorio le cornecchie sono sempre un po' dispettose sono tornati i nostri amici istici per la solita passeggiata sempre in coppia ecco il tasso finalmente lo riprendiamo in primo piano la faina è proprio divertente saltella velocemente con la sua lunga cura che ondeggia un capriolo di corsa ed ecco di ritorno il nostro amico istice ma la tua amica dove l'hai lasciata i caprioli a volte vanno di freddo sono molti attenti e pronti a scappare al primo rumore il asso invece se la prende con calma ecco una volta in una notte piovosa e tutti sei ma è lo scogliattolo il video è di novembre è ancora autunno e stava facendo provviste per l'inverno di nuovo la faina e la molte ecco di ritorno lo scogliatto in cerca di provviste di nuovo il gatto selvatico e si è messo pure in posto wow sei proprio un bel gattino ciao istici meno male che hai ritrovato la tua amica di nuovo in cotto ancora lo scogliattolo hai un gran da fare nel bosco la volpe è a caccia di prego questo sembra un bel esemplare amico ha una coda bellissima ed ora un po' di caprioli è sempre interessante osservare i loro comportamenti sono sempre un po' timorosi ehi istici buona passeggiata ci salutiamo con la farina ed il nostro amico gatto selvatico al prossimo video iscrivetevi al mio canale youtube